Ciao a tutti, ben ritrovati sul mio canale YouTube, anche oggi abbiamo un nuovo video e niente, bando alle ciance, andiamo a vedere di cosa parliamo è un po' debole devo dire, non so se riuscirà a fare il giro, non so se riuscirà ma guardalo qua è incredibile, vai vai, tutto bene, vinci anche un milione non avete sbagliato canale, sono sempre io con un po' della mia demenzialità praticamente ho fatto questa intro per festeggiare i primi 100 iscritti al canale quindi volevo fare qualcosa di carino o simpatico o demenziale, mettetela come volete voi è mia uscita sta cosa qua e niente, praticamente in questo video andrò a farvi sentire praticamente l'audio di un video che ho fatto in passato, che praticamente non mi aveva registrato l'audio e ho dovuto rifare il file audio non è niente di che, non c'è niente di istruttivo in questo video e quindi niente, buona visione andiamo con... ancora stiamo leggendo la posta per cercare di tradurre quello che ha scritto questo qua che a noi fondamentalmente non ce ne frega un cazzo tutto quello che sta dicendo a noi proprio... più ora neanche nel mentre aspettiamo che carica il prossimo personaggio facciamo un bel sospiro ma non di sollievo ok siamo partiti invece no, non siamo convinti per niente ritorniamo da capo, dalla base alla base dove c'è il nostro, diciamo, altare virtuale per cazzeggiare stiamo ancora qui fermi perché non siamo proprio convinti per un cazzo forse in un futuro molto 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 ma molto lontano partiamo ma forse andiamo sui nostri tre forzieri ho detto che andiamo nei nostri... ok, andiamo sui tre forzieri eccoli li apriamo ok, li abbiamo aperti ci ha dato... no, invece no, non ce l'ha dato ok, apriamo ci ha dato un po' di cose non ci ha capito un cazzo abbiamo preso le nostre tre chiavi credo no ok, abbiamo i nostri tre forzieri scintillanti che dobbiamo aprire apri apriamo anche il secondo forse quando è convinto riniziamo a dialogare ma non lo vedo molto convinto dai cazzo dati una mossa drink qui cazzeggiamo mentre lui sta fermo lì così prima o poi ripartiremo ma non siamo ancora molto convinti ripeto che in un giorno futuro forse riusciremo ad andare avanti e insomma è così stiamo cazzeggiando aspettando che lui finisca di fare tutto il tutorial perché lui è uno stronzo si va da 30 anni non sa fare i tutorial ma io non sono da meno perché praticamente sto commentando me stesso perché non mi ha registrato perché non mi ha registrato l'audio e quindi sto rifacendo il file audio praticamente che poi io andrò a editare ok forse ci siamo abbiamo finito e andiamo a raffinare l'incantamento anzi la pietra runica andiamo a raffinare la pietra runica che abbiamo preso e un altro pezzo l'abbiamo fatto equipaggiamo anche sto cavallo di merda perché è un cavallo di merda un cavallo striato ovvero un cavallo formato tigre che cazzo porca puttana ma va a fanno va a pigliatela in culo brutto coglione forse abbiamo finito invece no non siamo convinti andiamo a parlare con la tipa del bazar che è questa qui che non serve a niente a parlarci però siamo andati perché lui ci va evochiamo il nostro mercante perché li faceva schifo vendiamo l'oggetto che non ci serve bla 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 facciamo la preghierina ordiniamo l'inventario andiamo nelle cavalcature controlliamo le nostre cavalcature cambiamo la nostra cavalcatura riprendiamo anzi no abbiamo messo cavallo di merda ecco vi faccio vedere il cavallo striato che sembra una mezza tigre ma fa cagare e rimettiamo equipaggiamo lo slot emblema e niente stiamo a cazzeggiare qui con le cavalcature perché boh chiediglielo nel mentre cazzeggiamo anche di qua usiamo le corone che tanto non useremo quasi mai sto personaggio ok siamo pronti per andare no si ok ora allora stai fermo allora tu la schermata poi vai avanti di nuovo dai spostati su cattura schermata la fasce prima così anche il tutorial cattura schermata cazzo ah allora dai scorri datti una mossa ok oh cazzo ah cattura schermata sulla pislazzoli dai datti una mossa cazzo oh e qui stiamo di nuovo a cazzeggiare ok io salvo il video per ma anche no ok acquistiamo il nostro ok andiamo qui andiamo dal mercante allora a questo punto acquistiamo l'incantamento di lapislazzoli e lo andiamo a equipaggiare e lo andiamo a equipaggiare allora clicchiamo andiamo su equipaggiare non è convinto non è convinto per un cazzo allora che cazzo sta facendo ok qui sono ci sono sei ma a noi ne basta a voi ne basta qui sono sei missioni in questo caso ma a voi ne bastano cinque dunque praticamente il video finisce qui vi ringrazio per avermi seguito anche stavolta e niente vi saluto un abbraccio commentate se avete qualcosa da dire iscrivetevi al canale cliccate vi piace e ci vediamo alla prossima ciao ciao